Il paese di Olevano sul Tusciano sotto shock per la tragedia che si è consumata nella giornata di ieri. Un uomo 38enne durante un litigio con la moglie 33enne la prima accoltellata alla gola e poi si è suicidato impiccandosi in un terreno nelle vicinanze dell'abitazione. Il tragico avvenimento è accaduto nel pomeriggio di ieri. I due coniugi stavano per separarsi e pare che l'uomo non accettasse la decisione della moglie, mamma anche di due bambini. I dissidi andavano avanti da tempo, infatti l'uomo era stato anche allontanato tramite denunce. Dopo l'ennesimo litigio la scioccante decisione del marito di sgozzare la moglie, che è stata ritrovata riversa in una pozza di sangue ed in seguito di impiccarsi in un capanno di un terreno agricolo, dove è stato ritrovato senza vita dai carabinieri del comando di Battipaia. La donna, dopo essere stata soccorsa dai vicini di casa, è stata trasportata all'ospedale di Battipaia ed in seguito a Ruggi di Salerno. È stata operata d'urgenza e si trova tuttora in condizioni gravi. In credule le famiglie e tutta la comunità di Olevano, scioccata per una situazione inimmaginabile.